mamma vado vado in bagno io papà si si vai vuole andare a lavorare via il tuo papà non vuole vuole andare a fare un viaggio lontano ciao cri no vai falla che inquadri papà la mamma vado a vedere che quando sono morti dopo la facciamo stampare no no che sto messa male i capelli che sono tutte vecchie no che dovrebbe vedere i suoi amici lui vai vado a vedere i suoi amici